Salve amici siamo i giocatori per caso, adesso facciamo la sfida guida un'auto attraverso il campo di Gran Turco della fattoria d'acciaio e io posso aggiungere, era ora, mi piace sempre un sacco passare con l'auto in mezzo al campo di Gran Turco, finalmente una sfida decente se non siete ancora iscritti al nostro canale, fatelo subito iniziamo subito, la fattoria d'acciaio è semplicissima da trovare, si trova in questo punto qui guardate con attenzione, quando siete arrivati in zona vi buttate semplicemente e andate diretti verso la fattoria ora un attimo che la cerco, dovrebbe essere qua quando arriviamo giù è semplice, basta trovare un'auto, distruggere il campo di Gran Turco del tizio che lo coltiva e la sfida è bella che è finita di solito qua sotto c'è un'automobile, non sempre a volte c'è un trattore, ma il trattore purtroppo non si può ancora guidare eccola qui, una bella automobile verde però lì vedo anche un bel furgone l'automobile verde non si può usare, in questo caso ha le ganasce e le ruote quindi ci prendiamo il furgone e gli roviniamo sia il furgone che il campo almeno facciamo una cosa utile via la musica, non la voglio basta sfasciare tutto, et voilà gli ho visto anche una bella moneta viola, l'avete vista che bella? la sfida è finita, spero che il video vi sia piaciuto ciao ciao se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti